Scandaloni di urbanizzazione, l'imperativo categorico del nuovo assessore all'urbanistica è coprire il buco milionario provocato in anni di superficialità. Ogni giorno che passa è un giorno infatti a favore di chi non ha pagato, perché rischiano di cadere in prescrizione, se non richiesti in tempo, numerosi rimborsi delle quote che spettano al Comune, dopo gli errori riscontrati nella precedente amministrazione, passati al setaccio da un'apposita commissione presieruta dall'attuale sindaco di Bassano, Riccardo Poletto. Errori a 6-0 nei conteggi, forti discrepanze emerse proprio relativamente alla costruzione dei tre grandi centri commerciali, Grifone, Unicome, Palazzo delle Professioni, un buco da milioni di euro, di cui Rete Verita si era occupata per prima. L'ex assessore all'urbanistica Mauro Beraldin aveva puntato il dito contro i parametri da applicare per la richiesta di pagamento degli oneri di costruzione, conteggiati erroneamente rispetto alla legge. Era iniziato l'invio delle lettere agli interessati di richiesta di pagamento degli oneri mancanti, invio posto poi in stand-by dal precedente sindaco Cimatti. Cambiata l'amministrazione, oggi è necessario per il bene delle casse comunali, per il bene dunque della città che queste lettere di richiesta di esarcimento vengano spedite, perché si diceva all'inizio, però ogni giorno che passa entrano meno soldi al Comune. Noi abbiamo ben presente la situazione, è una delle prime cose che abbiamo ritenuto di cominciare a prendere in mano. Per conto nostro possiamo solo dire che ci occuperemo ovviamente di verificare quello che va verificato, applicando la legge e procedere con la riscossione del credito che, dobbiamo ricordare, consiste in un corrispettivo di diritto pubblico. Le lettere di richiesta erano state bloccate nel corso della precedente amministrazione, oggi dunque ripartiranno queste lettere agli interessati? Io dovrei riservarmi di verificare lo stato dell'arte della situazione, ovviamente si tratta della prima settimana di insediamento, per cui posso solo dire che sarà sicuramente una delle nostre priorità procedere a questa verifica. E nelle prossime settimane torneremo senz'altro a chiedere conto di come stanno procedendo i lavori di recupero crediti sugli oneri al neoassessore Munari.